Allora, devo farti registrare, poi devi fare il sussurro e poi cominciai, vedi devi fare così, i capelli, fai così, no, dai, come posso fare la stessa? No, no, calma un po', dai, calma, siamo più figa, dimmi quando parti, mi sei partito? Sì, 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 tre, due, no, calma un po' con. No, calma un po' con. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.